No, scorso anno Foggia ha ribattato una situazione col Cerignola, veramente è stata una partita più unica che rara, perché in pieno recupero ci volevano due gol e poi è successo. Con noi anche agli ultimi minuti dove eravamo in pieno contro la partita è successa la stessa cosa, ma tralasciando il passato. Noi sappiamo l'importanza di questa partita e vogliamo giocare alla grande con le nostre armi e quindi abbiamo due partite da giocare, dobbiamo cercare di fare il massimo a questo punto per provare a raggiungere questo obiettivo.